Avete cominciato subito forte, subito bene, un 5 a 1 nel primo tempo, insomma una partita finita 21 a 5. Sono molto contenti, un po' meno magari per i gol presi perché volevamo limitare la difesa oggi. Sono contenti della vittoria, adesso già da lunedì pensiamo alla partita di Milano contro la Metanopoli che è già una bella prova per vedere di che pasta siamo fatti. Con due belle vittorie e una sconfitta però col Camogli, cosa potrà fare Lavagna in questo campionato? Qual è diciamo un po' l'obiettivo? Quest'anno l'obiettivo è sicuramente quello di cercare di fare meglio rispetto all'anno scorso. Non ti nego che l'obiettivo è quello di provare ad entrare nei playoff. La squadra c'è, la voglia c'è, vedremo che cosa succederà, ci speriamo bene. Un po' di fatica in trasferta, ecco, quest'imperia. Sì, sapevamo che era durissima questa partita, noi siamo una squadra molto giovane, abbiamo affrontato la partita come potevamo, anche la defezione del portiere titolare che non è potuto venire all'ultimo minuto ovviamente ha inciso, ma i valori oggettivamente sono questi, il distacco è netto, loro sono molto più preparati e allenati di noi anche. Quindi quest'imperita che campionato potrà fare? Ecco, noi ovviamente cercheremo di dare il tutto per provare a salvarci, sappiamo che anche solo andare ai playoff sarà una vittoria, ma ci proveremo.